Hai lavorato in questo periodo? Stai lavorando? No, diciamo che sto un pochettino più fermino, sto aspettando delle risposte di alcuni lavori. Nel frattempo sono in meditazione, poi ho appena comprato casa, quindi diciamo che ho un periodo un pochettino di stabilizzazione tra lavori, trasloghi che dovrò fare, eccetera, eccetera. No, però al lavoro, diciamo, poche cose, un po' di videoclip ho fatto, stiamo facendo, soprattutto anche con Simone dovrò girare adesso un videoclip, però progetti lunghi da settembre. Tanto tanti auguri per la casa. Grazie. Sei in periodo di meditazione perché? Ma perché comunque c'è poco, c'è meno fermento lavorativo, quindi di realtà uno deve sempre poi approfittare di questi momenti un pochettino più lenti, lavorativi, per concentrarsi su delle cose, studiare, aggiornarsi, fare ricerche. Perché magari poi invece quando sei, diciamo, nel pieno del lavoro hai poco tempo per fare, no? Perché sei, magari torni, sei stanco, poi devi fare comunque anche, devi dedicare anche altre cose della vita oltre il lavoro e quindi non hai tempo per, cioè primitamente per aggiornarti, incuriosirti e studiare. Perché comunque il nostro lavoro è anche questo, no? Un continuo aggiornamento rispetto a tutto, sia da un punto di vista tecnico ma anche artistico. Quindi momenti di fermo, momenti in pochettino di stallo ci aiutano per ricaricarci, per ritrovare un attimino anche un interesse artistico, una chiave artistica che magari non avevamo costivato e studiato. Sai che mi ha fatto lo stesso discorso Simone, Simone Bozzelli, quando l'ho intervistato, che anche lui mi disse questa cosa dopo. Ah sì? Sì, che era appena uscito Patagonia e quindi era in fase di... Di gestazione. Esatto. Tu dove ti... quali sono le tue fonti di aggiornamento? Perché nel suo caso lui per esempio mi parlava di libri, di quadri, di film. Tu invece, non solo da un punto di vista tecnico, che mi interessa anche. Ma allora, sì, sì, no, guarda, tutto quello che riguarda... Perché io sono appassionato di fotografia e tutto quello che riguarda mondo fotografico, libri fotografici, questo mi arricchisce dal punto di vista artistico, no? Quindi sono un buon fruitore di fotografia, intesa come still, intesa come reportage, intesa come, insomma, street. E quindi, diciamo, da lì partono tanti spunti, ma semplicemente anche vedere film. Cioè avere il tempo per dedicarsi a vedere altre opere che magari ti fanno scattare qualcosa, no? Ma non significa copiare, non significa... Significa proprio che ti apri un pochettino alla mente, a un'altra visione. Dici, cavolo, però vedi, questo ha fatto questo. Quindi se io faccio quest'altra cosa, può succedere questo, posso... E quindi questa cosa ci aiuta e mi aiuta soprattutto nella... In una ricerca creativa, oltre... Quindi a vedere opere di altri registi, direttori della fotografia, vedere e leggere film, leggere libri fotografici mi aiuta tantissimo. E poi vivere, cioè nel senso fare esperienze di vario tipo. Cioè del tipo se... Banalmente una vacanza o una qualsiasi esperienza che non sia quella, insomma, della vita di tutti i giorni, comunque ti apre a un ragionamento artistico, perché... Dico una cavolata, tipo, che ne so, vai al mare, ok? Vedi un tramonto. Tu in un momento che magari devi anche ricreare lo tramonto, lo devi conoscere, cioè devi avere esperienza di quello che devi ricreare. No? Sì. Quindi è anche un modo meditativo per fermarti e guardare, osservare, proprio la vita di tutti i giorni che ti scorre e prendere spunto dalla vita di tutti i giorni. Quello che ti capita. Certo. Ma anche le cose, era una cosa stupida, anche una cosa sciocca, anche un temporale, banalmente, no? Di notte. Com'è un temporale di notte? Oppure vai in un bosco di notte. Com'è un bosco di notte? Al di là dell'esperienza personale della tua vita privata, in questo periodo cosa ti ha ispirato? Cosa senti che ti è rimasto in questo periodo di ricerca? Tra libri, tra film, tra fotografie? Allora, questo periodo, diciamo, ho visto tanto, ho visto tanto, e soprattutto ho visto... Southbourne. Cosa ti ha ispirato? Diciamo, non me l'aspettavo. Cioè, un film che era un... Ero sul letto, dico, voglio vedermi questo film, visivamente mi aveva catturato, e poi vedendolo, cioè, da un punto di vista fotografico soprattutto, fotografico, quindi che riguarda un po' più il mio, mi ha un po' incantato, cioè, un uso del 35 è notevole, inquadrature incredibili, nel periodo veramente, veramente tanto. E quindi, in giorni continuavo a ripensare a questo film che avevo visto, dico, porca troia, cioè, vorrei fare un film così, cioè, con questo stile, con questo linguaggio, perché comunque è super stiloso. Poi, a me i colori di base piacciono tanto, mi piace tantissimo lavorare con i colori, e quel film mi ha ispirato tantissimo, e infatti adesso lo devo anche rivedere, perché lo voglio analizzare adesso, cioè, adesso l'ho visto e ne ho goduto, invece adesso lo voglio un attimino vivisezionare. E questo è un film... Vabbè, pure Pursinghs è un film incredibile, dal punto di vista sia registico, sia fotografico, che ho visto recentemente, è un film veramente eccezionale, un'opera complessa e completa. Invece, per quanto riguarda tutto il mondo fotografico, sono un po' più ancorato a... di fotografi un po' più storici, ma guarda, altrimenti ho letto, ho visto un libro di Gianni Berengo Gardin, un fotografo italiano, che ha fatto dei progetti, hanno fatti tantissimi, e tutti mega interessanti, tutti mega interessanti. Quindi lui poi scatta principalmente con... il 50, il 35, insomma, quel tipo di fotografia, anche se bianco e nero, comunque mi ispira tantissimo, dal punto di vista della visione, dell'occhio, della posizione, della composizione. Volevo farti una domanda, riguardo appunto, hai fatto una considerazione, dopo che ti sto salvo, mi hai detto, vorrei fare anche io un film così. però dal tuo punto di vista, io immagino che un direttore della fotografia debba avere come qualità, forse la discrezione, non dico dal, come dire, da un punto di vista visivo, ma da un punto di vista proprio sul set, rispetto al regista. È una considerazione sbagliata o sei d'accordo? No, sono d'accordissimo in realtà, cioè nel senso, vorrei fare quella cosa perché è esattamente un'emmettata al film che ho visto, cioè era completamente incollata. Ma un po' come ho cercato di operare su Patagonia di Simone, che io ho cercato di capire prima il tipo di film e poi inserirmi e dare al film quello che la fotografia ha bisogno, cioè nel senso, quello di cui il film ha bisogno, ovvero di seguirlo appieno. Cioè di essere un tutt'uno, di non scendere film, cioè regia, fotografia, di non scendere i reparti, cioè volevo creare un'unica cosa. E quindi tante volte non è, chiaramente, non è il film che sceglie la fotografia, non è il contrario. quindi una mia idea deve essere completamente al servizio dell'opera, completamente. E quindi quando io dico vorrei fare una fotografia, cioè vorrei averlo fatto io in quel modo perché vorrei aver fatto io quel film, no? Ma ti chiedo, provo a stuzzicarti un po'. Ho intervistato di recente Cristiano Di Nicola che mi diceva che anche lui pensa di non avere uno stile e che ovviamente è una cosa che torna sempre questa cosa. Il direttore della fotografia è al servizio della storia, fondamentalmente. Cerca di elevarla, di portarla in alto, no? Quindi ogni progetto è a sé stante. Però vedendo i tuoi video, prendo come spunto te, i tuoi videoclip o avendo visto Patagonia e così via, io trovo dei codici che tornano. È come se comunque ci sia, c'è un linguaggio, c'è il linguaggio di Leonardo Mirabilia per quanto cambino i progetti. Ma allora, c'è, è vero, però c'è e non lo sai, no? È un po' questa la cosa, cioè io tu lo sai che c'è, io non lo so che c'è, cioè pure il cristiano ce l'ha, magari non lo sa che c'è quello stile, no? Però, però noi effettivamente non lo sappiamo perché siamo mossi dal nostro istinto, dal nostro gusto che ci porta poi a compiere delle scelte, no? Quasi inconsce. Però magari noi operiamo delle scelte, magari sono quasi simili tra loro e quindi perché ci piace, cioè, quello che ci piace e quindi ci riporta ad avere poi uno stile che gli altri riconoscono e noi magari noi non riusciamo a riconoscere. E quindi tu non ritrovi che, diciamo, come ti approcci, come dai la tua visione nel momento in cui un regista viene da te e ti chiede Leonardo come vogliamo lavorare, come facciamo? Io, diciamo, il primo approccio con il regista è di farmi vedere tutto quello che a lui piace, perché devo capire prima in primis chi ho davanti, qual è il suo gusto, qual è il suo stile e i suoi riferimenti. Quindi mi metto in una posizione principalmente di ascolto e cerco di capire lui che tipo di direzione vorrebbe al suo film. Dopodiché, se sono d'accordo rispetto a quello che ho letto, perché è importante poi leggere e capire cosa si sta facendo, se sono d'accordo magari si segue quella linea insieme e magari giustamente portiamo del nostro all'interno del progetto e quindi portiamo delle idee anche diverse. Se invece ritengo giusto di dover confrontarmi con il regista e raccontargli invece una mia idea fotografica, perché magari voglio difenderla perché penso che sia la linea giusta da seguire per quel tipo di film, allora combatto fino alla fine perché penso fortemente che quella della direzione giusta va perseguita. Tra di do, il regista è una cosa fondamentale da portomano che anche per me è importante soprattutto nelle squadre nelle mie squadre ma soprattutto con il regista che è importante che io dico che prima dobbiamo essere amici e poi possiamo lavorare insieme quindi per questo io tendo poi a uscire una passeggiata una birra conosciamoci ti devo conoscere un po' più nel profondo perché do capire come sei do capire che un attimo voglio capire come sei quando sei triste voglio vedere come cammini come metti i piedi è importante per me questo come è importante per me per la gente con cui lavoro in squadra parlo di macchina presa il turismo macchismo cioè io devo conoscere le persone che lavorano insieme a me è una cosa che per forza è che vengo da un paese di 450 abitanti e quindi ho un pochettino la visione dei rapporti tra virgolette un po' distorta un po' viscerale e quindi dobbiamo rimanere amici fraterni e poi lavoriamo perché se si litiga dobbiamo avere poi la possibilità di chiarire no? e se ti conosci veramente se c'è veramente un rapporto chiarisci con le persone e andiamo anche ma penso sia veramente bello penso che sia un bel approccio soprattutto ci riesci sempre in tutti i progetti che hai fatto ci sei riuscito? ah per meno sì perché in realtà sono molto attento alle persone cioè nel senso sono attento alle persone cioè mi empatizzo molto con chi ho che ho vicino infatti e cerco sempre di in certo senso di di curarmi di insomma se c'è qualcosa che non va io lo avverto cioè se c'è anche una persona che lavora insieme a me che c'è qualcosa che non va io devo cercare di capire che c'ha perché mi fa stare male pure a me da un punto di vista diciamo pratico togliando la fase d'ascolto così non ci ripetiamo mi raccolti il lavoro che fai dal momento in cui ti viene presentato lo script al giorno delle riprese diciamo un po' come se fosse non lo so una sorta di lezione per chi vuole fare il direttore della fotografia allora sì mi arriva lo script leggo immediatamente perché poi diciamo io leggo quasi subito cioè appena arriva leggo ma ti interroppo un secondo accetti il progetto dopo aver letto lo script e quindi te ne arrivano da tanti certo certo cioè nel momento in cui prima leggo chiaramente e poi scelgo scelgo di fare il progetto superata questa fase parlo con con il regista e iniziamo io uso cioè non uso fare delle riunioni cioè mi piace più uscire una birra una passeggiata sì ne parliamo del film e quindi iniziamo a parlare cioè proprio la Cassiana tu come lo vuoi questo film come cosa vorresti e quindi da lì parte un pochettino il tutto da lì parte il tutto e quindi in quel momento è già partita la preparazione perché scambi di idee portano a dei ragionamenti quindi io mi appunto quelle che sono delle delle insomma delle delle chiavi da insomma da seguire che possano essere da un punto di vista di inquadratore proprio estetico anche di scenografia perché chiaramente è importante poi andare a ricostruire un mondo da un punto di vista fotografico anche attraverso la scenografia che è l'elemento che ci permette di di poter far vedere l'atmosfera e la luce no? infatti poi in preparazione lavoro tantissimo con la scenografia e tanto tantissimo cioè voglio cioè sono puri cioè voglio vedere tutti i props mi piace mi piace insomma devo sapere più o meno tutto perché perché non mi piacciono le sorprese sostanzialmente neanche quella del mio compleanno ma lo festeggio quali sono gli elementi che ti fanno accettare un vero progetto che ci devono essere per te innanzitutto devo devo vedere negli occhi del regista un po' di mordente un po' di fame che è la stessa che ho io che ho avuto che ho tuttora e che spero di avere sempre questo è un elemento importante un altro elemento importante forse il più fondamentale è la storia perché noi da soli non facciamo nulla e se la storia non non ci emoziona non non ne siamo convinti non andiamo da nessuna parte perché poi quello che dico sempre è che a me non interessa se un film che faccio o anche che fanno gli altri ha una buona fotografia ok a me interessa il progetto cioè infatti io dico sempre che quando magari uno fa un'osservazione su qualsiasi tipo di lavoro e dice però mazza che bella fotografia io comunque un po' ci rimango male perché evidentemente abbiamo cioè sento di aver perso come squadra no? sento di aver perso come strada invece quindi io sono contento quando magari si dice che bel prodotto che bel lavoro cioè proprio tutto fotografia costumi scenografia regia contagio tutti i reparti e allora è lì che 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 insomma sono felice sono felice di di comandare di come di quello che è arrivato e di quello che è arrivato quindi per rispondere per rianciarmi alla domanda di prima vedo anche i reparti cioè interessa sapere chi chi lavora insieme a me no? anche banalmente i costumi cioè mi interessa tantissimo perché fanno parte dell'immagine tutto quello che fa parte dell'aspetto visivo io devo avere no una garanzia però devo conoscere chi come sempre perché non voglio sorprese perché ti fanno paura? no perché chiaramente non mi fanno paura perché poi è tutto gestibile e anzi il set è difficilissimo cioè è difficile per quello perché devi è un continuo parare i colpi e scegliere no? le scelte all'ultimo sono quelle fondamentali no? che poi io dico che magari noi cioè il professionista i professionisti sbagliano però la cosa la cosa che che dico e che dico sempre è che è che sceglie di sbagliare cioè sceglie il tipo di sbaglio che deve fare tra un bivio il professionista sceglierà il male minore lo sbaglio che porterà meno impatto possibile alla produzione del film e al lavoro degli altri infatti una delle cose che penso sia più difficile da far capire a chi il cinema non lo fa di quanto lavoro preparatorio ci sia dietro e di quanto in realtà quel lavoro preparatorio ti serva per fare meno errori possibili quando arrivi sul set perché poi le cose non vanno come 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 preventivato che non è detto che vadano peggio magari vanno meglio di come di come ce l'avevi in testa però essendo un lavoro di gruppo ed essendo un lavoro che parte dalla testa delle persone poi la testa si deve collegare alle mani al corpo alla praticità degli attrezzi delle cose che si hanno ed è sempre molto complicato e quindi in realtà il lavoro preparatorio serve proprio ad evitare di fare quanti più danni possibili sì sì a contenerli assolutamente assolutamente volevo farti una domanda banale perché con Simone e Bozzelli non siamo riusciti non siamo riusciti a trattare questo argomento ma mi interessa e soprattutto è una cosa che ritorna nel tuo lavoro a proposito dei codici che tornano ed è il lavoro con la pellicola sì mi spieghi perché scegli spesso di lavorare in pellicola anche le fotografie ho visto che scatti in pellicola sì ma in realtà io mi sono avvicinato di più alla pellicola grazie alla fotografia quindi ho fatto l'istituto d'arte dei rieti come indirizzo facevo fotografia quindi scattavamo sviluppavamo e stampavamo e quindi è una cosa che mi è rimasta di cui avevo esperienza e non ho mai amato il digitale in fotografia intesa come stile quindi di conseguenza nell'ambito dell'audiovisivo penso fortemente la stessa cosa cioè io non amo il digitale cioè non amo quel tipo di processo di 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 lettura no che che applica poi il sensore invece diciamo tutto il mondo della celluloide è pazzesco cioè è più bello cioè molto semplicemente mi appaga molto di più l'immagine è più è più vera più rotonda più più bella e cosa che il digitale non mi restituisce quindi cerchiamo sempre un po' ad andare nel digitale cercare di emulare perché poi in realtà giro anche in digitale cioè le faccio tanti lavori digitali però in realtà non mi appaga mai come vorrei se non sono mai così felice perché poi cerchi sempre di andare a emulare quella sensazione lì e allora capisci che è quello che ti piace ti piace quello allora punti per girare in quel modo lì poi tutto quello che comporta la pellicola che è proprio completamente un altro modo di lavorare di ragionare di pensare di stare sul set di atteggiamento di concentrazione si ristabiliscono i ruoli cioè ognuno ha il suo ruolo e questo è fantastico perché poi è lì che vedi veramente la macchina che funziona no? un po' il vietato sbagliare il vietato fare errori nessuno che tra virgolette può mettere bocca perché chiaramente ristabilandosi i ruoli io so la scelta che ho fatto e solo io so come verrà no? quel tipo quella sensazione come la storia come l'ho pensata e come poi la ricordo mi piace come concetto quindi lo fai anche un po' per evitare che qualcuno ti afferisca col tuo lavoro certo sì 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 perché poi purtroppo il digitale ha fatto questo no? nel senso che poi io vengo appartengo all'era del digitale ero un po' quando ho iniziato ero un po' a cavallo e quindi non ho avuto modo di di fare quell'esperienza al tempo però scattando sempre in pellicola è come se l'avessi fatta in un certo senso no? sapevo che cosa mi avrebbe dato di più e infatti poi il primo lavoro che ho fatto in pellicola ho detto fermi tutti cioè è così si deve girare questo è il metodo e questo lo sarà per sempre infatti poi si dice sempre che c'è questa rincorsa sempre a evulare appunto la pellicola però a noi c'è c'è sempre stata dai tempi dei tempi da cento anni no? quindi ce l'abbiamo è perfetta usiamola continuiamo ad usarla è un'invenzione incredibile e quindi sono sono sempre emozionato quando sono sempre più emozionato quando faccio un lavoro in in pellicola sono molto più concentrato sei molto più presente sulle scelte e poi la cosa una cosa importante e bellissima mi sono accorto che a un certo punto quando giri in pellicola segui segui molto di più il tuo istinto no? perché comunque anche magari ti vengono dei dubbi su delle cose e lì non non applichi un vero e proprio ragionamento matematico che stai lì però istinto di scelta e vai chiaramente il rispetto pellicola digitale il il sensore legge appunto la luce mentre la pellicola cioè viene incisa e è diverso avviene una reazione cioè è diverso un po' forse un po' poetica come cosa però c'è un qualcosa che esiste che esiste veramente di materico mentre digitale purtroppo è una cosa che non non esiste bello molto bello mi racconti effettivamente quali sono le difficoltà che poi si possono riscontrare perché credo in generale sia più difficile girare in pellicola piuttosto che girare digitale ci sono delle difficoltà te proprio pratiche che mi racconti un po' questo aspetto qui fammi pensare perché in realtà per me non voglio dire che non è così difficile perché poi una volta che lo fai non vedi non vedi errori io secondo me ha solo dei vantaggi più che delle difficoltà cioè nel senso la difficoltà sta che l'errore può essere fatale questa è una difficoltà ok può essere che succede qualcosa non te ne accorgi banalmente giri e che sbaglio hai toccato la ghiera dei diaframmi e hai chiuso di due stop non te ne sei accorto e poi quello lo scopri al laboratorio di difficoltà c'è che chiaramente un assistente operatore e anche io insomma tutti vedono il giornaliero il giorno dopo quindi tu il giorno dopo o due giorni dopo puoi vedere se qualcuno ha commesso qualche errore banalmente una sfocatura un'immagine non ha fuoco e lì non torni indietro lì nessuno ti ridà il set del giorno prima e lì hai sbagliato quindi anche avere hai una responsabilità diversa questo sì hai una responsabilità diversa perché e ti assume una responsabilità che tutto vada bene dal punto di vista tecnico questo 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 e questo questo fa parte delle scelte insomma delle difficoltà di girare in pellicola però poi nel momento in cui sei un professionista nel momento in cui sei uno stirante giri sono sono cose che tu consideri che tu sai e che tu prevedi ok quindi per quello dico che bisogna essere molto più concentrati perché perché ti fai dieci check in più non ne fai uno ne fai dieci poi chiaramente è più rischioso diciamo però quella cosa può capire anche in digitale nel senso che ne so si vela un magazzino si vela il girato viene termine un gergo diciamo di uso di tutti i giorni viene bruci il girato no e quello può succedere ma come come un data manager non scarica una scheda penso sia molto interessante ma hai detto che lavori molto distinto hai mai lavorato a un progetto con lo storyboard? sempre sì 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 no ma l'istinto poi cioè chiaramente lo storyboard è una piccola bipietta soprattutto per le scene un po' più complesse dove hai come nemico il tempo però poi lì c'è il lato istinto cioè quando sei effettivamente su una location può venire può venirti un'idea ok e quell'idea diciamo è il frutto dell'istinto ok istintivamente capisco che magari da quell'altra parte della collina quello shot può essere più bello e più giusto no più bello più giusto perché il bello poi è soggettivo invece il giusto è giusto no lo storyboard solitamente non lo fai su tutto il film cioè almeno a me non mi è mai capitato che hai tutto il film storyboardato disegnato alcune scene sì come ti ho detto perché magari più complesse oppure scene dove ci sono degli effetti visivi digitali o delle scene di sfx dove chiaramente devi essere un pochettino più chirurgico perché magari hai un cioè un one shot per girare quella scena però ecco io ci tengo che anche lo storyboard sia in linea con 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 il linguaggio che si è che abbiamo scelto per girare il film sono importanti i social del tuo lavoro oggi? sì sono importanti perché ti aprono a un dialogo a un un'esposizione oltreoceano anche ok istantanea e hai modo di confrontarti con con altri colleghi con altri direttori della fotografia con altri registi in maniera più diretta quindi cioè io mi capita di parlare con con tanti colleghi americani che che magari ci scambiamo opinioni rispetto ai lavori che facciamo che condividiamo oppure semplicemente una connessione di di anche tecnica di di domande di di curiosità no? come hai fatto questa cosa? che cosa l'hai girata? come come ti è venuto in questo modo? cioè sono importanti per questo sono importanti per per questa questa sorta di comunicazione così immediata che 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 è importante per noi è importante perché poi in realtà poi ormai il nostro mestiere non è non è più un segreto come lo era una volta cioè nel senso tutto quello che che poi in realtà noi sappiamo e di cui facciamo esperienza è stato già fatto qualcuno l'ha già fatto e ne potremmo trovare diciamo delle informazioni online e quindi diciamo c'è una sorta di apertura mentale in questo momento storico che è bella e quindi di scambio di informazioni perché poi in realtà se io faccio una cosa che penso e la riporto in immagine sicuramente un altro diopi che fa la stessa cosa mia come io glielo ho raccontata non la farà mai uguale come me perché poi qui entra quell'istinto di cui ti parlavo che è personale e entra quello stile di cui te mi parlavi è che che è sempre personale e inimitabile forse no forse sì però secondo me sarà comunque diverso sì che poi l'imitazione non prevede l'uguaglianza anche nell'imitazione ci sono delle divergenze questa assolutamente queste sono ci faccio un'altra domanda diciamo lo faccio per vedere se sei cattivo se riesci a rispondere in modo cattivo però non penso che lo farai trovi ci sia più libertà creativa e più libertà di sperimentazione nei videoclip musicali o al cinema in questo momento in Italia perché io ho la sensazione che dal tuo punto di vista da un punto di vista prettamente fotografico siamo molto più avanti nei videoclip ma io nasco cioè nel funzione ne ho fatti tantissimi e devo ringraziare i videoclip che mi hanno dato la possibilità appunto di sperimentare tanto quindi la mia risposta è sui videoclip perché comunque ogni volta hai un'esigenza diversa ogni volta hai bisogno di materiale diverso cioè nel senso che ne so col videoclip è capitato che giri scena sotto l'acqua fai che ne so Russian Arm giri col Super Techno e fai tutto un videoclip tutto camera car cioè comunque ti dà modo di sperimentare tanto e a me mi ha dato questa possibilità in Italia diciamo che sì magari si è sperimentato più su videoclip che sul cinema ti chiedo l'ultima cosa e poi passiamo all'analisi che ti ho preso tanto tempo già quali sono gli errori più comuni che vedi in gente che si approccia per la prima in principianti diciamo da un punto di vista proprio di esperienza che si approccia a questo lavoro allora degli errori comuni ma in realtà non è un errore ma un consiglio che do a chi si sta approcciando a questo lavoro è quello di di rivalutare l'imprevisto cioè di non di non pensare che sia che sia sempre una cosa negativa e sbagliata ma di cercare di di stravolgerlo cioè di renderlo speciale un esempio che posso fare tipo se c'è volevi girare girare c'è e c'è nuvolo ma tu volevi il sole non aspettare il sole ma rendi incredibile quell'atmosfera con le nuvole quindi anche anche lì cerca di di stravolgere di stravolgerti persegui la strada una cioè dovresti perseguire una strada anche diversa e vedi dove arrivi no? è un po' una sorta di missione quindi un'altra cosa che io vorrei cioè consiglio a chi sta approcciando al mondo della direzione della fotografia una cosa importantissima secondo me è quella di sentire il set cioè di non concentrarsi soltanto sul proprio cioè su quello che stai facendo ma di capire le altre dinamiche che ci sono che ci sono attorno cioè mi spiego anche banalmente un attore che magari in quel momento ha la necessità il bisogno di girare in quell'esatto momento tu questa cosa la devi avvertire e non devi fare l'errore di essere egoista e prenderti tutto il tempo per preparare o per fare appunto una scena ma appunto sentire le necessità magari quell'attore è pronto in quel momento e tu non sei pronto e tu lo devi far girare perché poi quello che resta è quello che fa è quello che l'attore trasmette principalmente